Dati liberi per comprendere meglio le oscillazioni del mercato, le nuove tendenze e il livello di soddisfazione dei clienti nei confronti dell'offerta di un determinato territorio. È il cuore della piattaforma online dell'Osservatorio Turistico Regionale presentata in videoconferenza. Oltre alla Regione e a Union Camere Veneto, hanno aderito alle attività dell'Osservatorio le 16 DMO, tre Atenei Veneti, i centri di ricerca, le associazioni di categoria del turismo, artigianato e agrituristiche, SAVE, UMPLI Veneto e le organizzazioni sindacali. All'indirizzo osservatorioturismoveneto.it si possono trovare i dati su arrivi, presenze, reputazione online e prospettive di settore. Un esempio, nel Bellunese nel 2019 sono arrivati oltre un milione di turisti che hanno passato almeno una notte nelle strutture del territorio. Solo 160.000 però hanno scelto la parte meridionale della provincia, equamente divisi tra alberghi e sistemazioni extraalberghiere. A nord di Longarone invece l'albergo è la soluzione per circa due clienti su tre. Gli italiani sono i più numerosi e secondo le proiezioni per il 2021 conquisteranno una quota ancora più ampia, mentre anche per ragioni geografiche gli stranieri più presenti sono quelli dell'area mitteleuropea come tedeschi, austriaci, polacchi e cechi. Il movimento turistico ha portato nel 2019 a prenotazioni per oltre 3.700.000 notti. L'88,8% dei visitatori ha espresso online un sentimento positivo nei confronti del territorio. Conoscere per programmare non è solo uno slogan, ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Federico Caner, ma un metodo di lavoro condiviso grazie al quale per esempio cerchiamo di approfondire i punti di forza e quelli di debolezza del nostro sistema.